Allora consigliere, com'è lo stato di salute di questa maggioranza, visto come sono andate le cose nell'ultimo Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2011? Ecco, vi rifaccio alla sua domanda il bilancio. Per noi dell'Udc il bilancio è il momento più importante della consigliatura, il momento in cui con i numeri si vede chi è in maggioranza e chi è in minoranza. Noi abbiamo una maggioranza di 13 persone, infatti in Consiglio Comunale 13 consiglieri hanno votato sì al bilancio, 2 si sono astenuti e 10 hanno votato contro. Per noi dell'Udc c'è una maggioranza coesa di 13 persone. Consigliere, Pozzuolo e Futuro a questo punto, secondo lei, sta fuori dalla maggioranza? Non lo dico io, lo dicono loro. Nel momento in cui si sono astenuti, lei sa bene che il bilancio è l'atto più importante di un Consiglio Comunale. Sul bilancio si può azzerare una consigliatura con l'arrivo del commissario. Pure il Presidente del Consiglio Comunale è un consigliere di Pozzuolo e Futuro, non c'è un po' una discrasia in questo caso? C'è una discrasia ma lo statuto dice che il Presidente, almeno lo statuto vigente, il Presidente non può essere sfiduciato. A suo avviso questa maggioranza potrà andare avanti tranquillamente, l'amministrazione può contare su questa maggioranza per portare avanti quelle che sono le problematiche della città? Io sono certo che i 13 ci sono stati adesso e ci saranno sempre, perché è chiaro che chiunque di noi dovesse venire meno, non è che viene meno in Consiglio Comunale, non è che viene meno nei confronti degli altri consiglieri, ma viene meno rispetto alla città. I cittadini li hanno votati, ci hanno votati a tutti quanti, né per litigare, né per chiedere e risolvere problemi nostri personali, ma solo e solamente per tentare di lavorare insieme per la città.